basta che puntate nessuno... ma è già è già accesa? ma non è che si vede benissimo eh, però... Andrea, vecchi, non è che si vede bene un bel po' eh eppure c'è la lunata, hai scelto una pioggia, c'è la lunata piena eh, non so, ma io non so come vedrai stesso il suo filmato, mi pare, sai quelli, quel film dell'horror cos'è quello lì? la provo dai fuoco io o c'è qualche esperto che vuoi provare? vai 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 Andrea vai, noi ci fidiamo di te ma devi girarla e la cendi da sotto no? ah no, lo so io! oh, fra c'è, che dici? ti metto da tenere così, ti metto dai fuoco, ti poniamo un confine se esplode... ferma la di te aspetta, non è se c'entri qua stella una volta ha fatto così, purtroppo, è stata finita in mare levati Marti lì sotto, levati per il troglio del dito non vorrei da te proprio a te farlo a scaldare... ecco... ma secondo me non è... finito bravi, che uomini che uomini aspetta, ma che lo stopì, aspetta, frena, frena do, 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 do ce lo stopì hanno visto lo stopì no, troppo bello c'è? no scusa comunque se... 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 come fare qualcosa? eh 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 due euro per fare? due euro lanterna sto giro ci... oh, va? beeeella e infatti dai Andrea, bravo! grazie beeeella beeeella amore guarda Dalili non può voler piano piano però eh adesso sta scalda eh se gonfia e ci vuole facciamo prima un po' di rum e o che vuole? mi devi tirare ma vuoi andare giù? ah sì? ma vuoi andare giù? ma che dite? aspetta, te la puoi scendere io chi è che tene qua che puoi scendere Dalila io? ma no, che vuole? teni su misura va Matti, metti un po' questo ciao no, da divina è un cervello sotto, no? ma è venuta sta gonfiando eh eh ma ci vuole un po' eh no, infatti se... se non tira... se come l'altra volta ho occhio che... eh, tesoro no, ma non prendi no, lo sai cos'è? ho preso di no, perché penso che sia caldo ma di quanto è caldo qua su ciao? non la lanciare a Iesi è confiata se l'altra volta si è fregata per tutto Matti, vieni via di sotto Matti, vieni qua lascia, lascia ha lasciato e l'altra volta... è quello che non sei la gonfiare eh, infatti devi gonfiare se devi volare lì che figata che figata guarda stasera brava Zaretta per finire la serata in bellezza via anche la lanterna mancena se devi dire non lo so qual cosa esprimi un desiderio esprimi un desiderio per sta lanterna che vola basta ho detto confini ho fatto bambini proprio lontano eccola va lascia qua guarda, guarda sta per andando Aspetta! Guarda come c'è più fuoco la carta qua eh! No dai dai no no! Eh perché c'è il coso! Lascia! 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 Eccolo è! E' una casca! Bello! E' una casca! E' un pollo di... E' una casca! Nooo! Ma sta cascando dentro me! Bravo Andrea! E' merito del team! E' vero! E' merito del team! Perché adesso questa va in alto in alto! Bravo Andrea! Bravo! Eh la prossima volta... La prossima volta la portiamo... No dite qualcosa! Dica qualcosa... Ci dica cosa pensa di questa cosa! Dai Andrea per favore! E' per domani... Non c'è più... Domani ne lasciamo un'altra! Perciò per lui non c'è più anche 10! Perché? No! E' volato in alto un po'! E' volato in alto un po'! Quelle che avevo visto noi non erano così in alto! Ma quelle che avevo visto noi non erano così in alto! Ma quelle che avevo visto le prima volta non erano così in alto! Ma quale hai visto scusa? Ecco parli! Eh? Di cosa stai parlando? Guarda! Guarda! Ormai non la riprendo più! Sai Andrea! Vorrei sentire il dopo partita no? Guarda! Guarda! Il dopo partita! Eh vabbè ma cosa ne pensi? Dici cosa ne pensi? Bellissima sta cosa! Perché non ho visto mai un'antenna cinese volare così in alto! Le altre? No! Secondo me la lanterna l'altra era taroccata! Questa è normale! È proprio cinese! Ma è vero? Ma... Non si sa quando vieni giù! È desiderio che va su! È vero! Ma guarda che ti giuro la prima volta che... Mi hai preso acqua! Andrea ma guarda dove è arrivata! L'ho presa su internet! No no! L'ho presa su internet! 10... Una quindicina delle ore! Perché dopo che l'avevamo lanciata con lei eravamo così depressi! Vedo che cazzo! Cioè ha fatto due metri e è andata nell'acqua! Adesso la riproviamo! Ti giuro la prima volta che la vedo così in alto! Tutto quello che avevamo visto noi! Finissima... Ci ritorna e arriva da noi! È brava! Il team che l'ha fatto a dircollare! Adesso non pare che sia stato io eh! Con l'incendio!